Ciao a tutti, questo video non era in programma però è giusto che lo faccia siccome sono una persona che non si pone il limite di sapere tutto e quindi di non poter imparare niente ho imparato anche io qualcosa facendo i video innanzitutto ringrazio tutti quelli che hanno visto i miei video fino adesso quelli che hanno messo mi piace e chi ha commentato appunto tra questi commenti, vabbè ci sono stati commenti di persone un po' ignoranti che con le loro teorie assurde eccetera lasciamo stare ci sono stati anche dei commenti interessanti che mi hanno fatto notare qualche cosa da poter perfezionare la prima cosa che è forse quella più importante anzi sicuramente è quella più importante è che nel primo video che ho fatto tre semplici regole per la potatura dell'olivo avevo detto che all'interno della pianta tutto quello che andava verso il centro andava tolto in realtà qualcuno di voi mi ha detto bisogna togliere tutti i succhioni più grossi però è bene lasciare qualche piccolo rametto l'idale sarebbe ogni 30-40 centimetri perché questo aiuta il passaggio della linfa e mantiene la corteccia della pianta in salute a lungo andare se si taglia sempre tutto c'è il rischio che la corteccia vada a seccare io ho verificato parlando con persone informate ho ricevuto anche altri commenti che riguardano delle precisazioni nel video erroneamente ho chiamato polloni i succhioni i polloni sono i butti che si trovano alla base del tronco solo sulla base del tronco poi anche lì ci sono diverse teorie comunque proprio la cosa più precisa è questa i polloni sono quelli sul tronco e i succhioni sono quelli che si trovano all'interno della pianta quindi faccio questa precisazione a qualcuno mi ha anche detto non chiamare le forche non si chiamano forche ma dicotomie il termine tecnico è quello però è la solita cosa di forca e dicotomia è la solita cosa quindi diciamo che è giusto dirvelo però anche quando ho fatto il corso io si parlava di forche non di dicotomie poi voglio confermarvi una cosa che vi ho detto che tanti mi hanno contestato il fatto che il taglio alcuni dicono che quando si taglia bisogna tagliare la dente al tronco questo è sbagliato è una cosa vecchia superata perché se io faccio il taglio raso al tronco cosa succede? innanzitutto la superficie del taglio sarà molto maggiore rispetto a un taglio fatto anche mezzo centimetro sopra perché chiaramente quando vado a tagliare su un ramo si va a stringere il diametro del ramo che taglio quindi anche l'area diminuisce la ferita è minore quando si fa un taglio per cicatrizzare si secca la parte sopra se io faccio il taglio raso al tronco la parte secca mi va a finire dentro la pianta è meglio evitarlo addirittura sono venuto a sapere che negli ultimi corsi di potatura dicono di lasciare 10 centimetri cioè quando io vado a tagliare un ramo, un succhione di lasciare 10 centimetri in modo che poi l'anno dopo si possa tagliare anche raso, abbastanza raso al tronco però questo lo trovo giusto per chi ha magari pochi ulivi però per uno che lo fa di lavoro o uno che comunque ha tanti ulivi è abbastanza scomoda questa cosa oltre che brutta a vedersi direi che vi ho detto tutto può darsi che a lungo andare ci siano altri video di aggiornamento nel prossimo video mi piacerebbe anche farvi vedere con che attrezzatura ha lavoro quindi l'attrezzatura che vi consiglio poi magari mi inventerò anche qualche altro video sempre sull'ulivo sicuramente ne farò altri per quanto riguardano il giardinaggio le potature e anche altri argomenti al di fuori di queste cose spero che questo video vi sia piaciuto sicuramente vi sarà utile a breve farò altri video, grazie ciao, ciao, ciao